Ciao a tutti ragazzi, sono Cappo e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video Raga, come potete ben vedere, mi è uscito Pam Mi è uscita Pam, cioè Eccola qua Già ci ho fatto un pochino di partite perché stavo in macchina, quindi non ho potuto registrare perché stavo in macchina, regà E allora, ok Ci mancano questi brawler E intanto, guardate qui sotto, regà Tadam! C'è un nuovo brawler Questo era un video per Pam Però vi voglio far vedere come funziona questo brawler Allora, guardate Ha tre raggi E fa così, cioè praticamente se tu Allora, puoi colpire massimo tre persone Però se non colpisci tre persone e ne colpisci solo uno Ha uno con quattromila di vita Con due colpi l'hai ucciso, guardate Boom e boom Non serve che miri Puoi fare anche semplicemente così l'hai devastato praticamente, regà E poi anche la super la puoi guidare Sì, guardate la sto guidando È un po' immanovrabile Infatti, vedete? Perché è un po' difficile Ma dovrà Manovrarla è un po' difficile Vi voglio far vedere Vi voglio far vedere, guardate Il brawler mentre ha questo coso Non si muove E questa è una cosa brutta Indovinate perché? Perché se non si può muovere Non può parare i tuoi attacchi Infatti, vedete? Con questo mi posso muovere È devastante Però non posso parare gli attacchi Boom, vai qua E te ne uccidi un botto Quello che vi voglio far vedere anche Se tipo Fate così, guardate Come vi ho detto prima Non si deve proprio riunire il colpo Se voi fate così Ne avete colpiti tre E fate settecento Mentre se colpite Proprio così fa duemila e cento Infatti, guardate È letteralmente Hopi sta cosa Che puoi guidare Cioè, guardate Così Non penso nemmeno si possa Non penso nemmeno si possa Uccidere la super di questo Cioè, non posso Non penso più o meno Questo vi voglio dire Infatti, è devastante Perché guardate Vi voglio far Vedere un esempio E qua non so Se riesco a manovrarla Uh 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 No, vi voglio far vedere una cosa Comunque mi sa che non si può uccidere Perché Se no l'avrebbe già sparato questo Vedete Allora Se tu tipo Becchi qua Il colpo Eh Te lo dà lo stesso Aspettate Vediamo se lì ci arriva Penso di no Qua Ecco Tipo Se fate così Ci arriva Un attimo Vediamo se ci arriva là Oh mio Dio Regà è un po' Un casino Fare così Infatti dovete fare soltanto così Perché è un po' Un casino Tipo Se fate così Ve lo becca Regà non trovo una cosa Oh aspettate Oh aspettate che sto robottone Aspettate Lo mando un po' indietro Con la super Ecco fatto Adesso Vi voglio far vedere questa cosa Se voi tipo fate così al muro Lo becca lo stesso Eh Oh pista cosa Guardate Io qua il muro qua Pum Ho beccato il muro Regà Guardate Aspettate Tipo questo qua Pum Ho beccato il muro È troppo oppi sta cosa Davvero molto forte Adesso Torniamo Al nostro Al nostro video Di Pum Ebbene sì ragazzi Mi è uscita Pum Sono davvero molto contento Che mi sia uscito Perché non Se Non mi voglio sbagliare Ma Mi sa che Con Pum Abbiamo finito I brawler Epici Poi andiamo a vedere Allora Intanto Quello là Tiene il gelindo Del brawl Pass Quindi Sta già alla fine Oh mio dio Secondo me Si è scioppato Tutti i livelli Aia Mi ha fatto male Mi ha fatto male Vai 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 Urca Rega Ok Come non detto C'è stata Un Inconferenza Sì Ok No Sto cercando Di concentrare Ma qua Oh my god Ah Hanno vinto loro Secondo me Movincono loro Sicuramente Rega Non ci credo Che è venuto più Più What What the hell Ma qui non posso passare Che questi qua Mi uccidono subito No No Hanno vinto Rega Peccato Eh guardate Rega Non riesco a passare Ne posso uscire Ne posso uscire Massimo uno Però Ok Abbiamo perso Abbiamo perso Guarda guardate Gelindo con quello Stile Che figata Ci sta E quindi Rega Ecco Ecco Pam Pensavo di stare In solo In verità Però Ci ha messo In quella modalità Facciamoci solo Adesso Ok Intanto Una sola parola Pam Fortissima Il raggio È davvero Lungo Però Devi stare vicino Se vuoi fare Tanti danni Però Perché vi becca La cassetta Invece che il brawler Devi stare vicino Per Devi stare vicino Per fare tanti danni Perché Guardate Se tipo sto qua Non Non fa Quasi niente Però Fa tanto Fa tanto Rega Fa tanto Fa più Se sta vicino Perché Vanno tutti colpi a segno Perché vanno tutti Sparsi E però Se Anche se sta lontano Fa Bei danni Rega Urcacitta Ah va bene Se la vogliamo mettere così Io ti uccido Così mi prendo Il tuo power up E il primo Anche a te Ti voglio uccidere Così mi dai Il tuo power up Perfetto Va bene Scontro finale E il power up Me lo sono preso comunque Quindi va benissimo Ok 10 coppe Andiamo Benissimo Ah ci stiamo facendo Diciamo Diciamo Dai Ios Ios Io dico Ios Perché Rimane più semplice Rega Vabbè Comunque Se tipo c'è un bersaglio Molto grande Fa Troppo danno Anche da lontano Perché se c'è un bersaglio Grande Li becca tutti i colpi Come potete vedere Comunque Questo Coso Che sembra un Kong Kong Di ferro Non ci provare Non ci provare Che ti ho portato Nell'altro video Non si fa Pam Cioè Piper No cosa 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 Rega Sono facendo Alleanza Ah no Rega Mi pensavo Che stavano Timando Ok Due coppe Poi Pamma Prima era Più Oscura Più Non lo so Adesso è tipo Più Più Mamma Tipo Guardate Cioè Tipo Non lo so Sembra Una mamma Tipo Guardate È una mamma Vabbè Le notizie Ci sta Una notizia Vediamo un po' What the hell Mettiamo il cuoricino Intanto Oh rega Seconda Abilità Stellare Di gelindo Ok 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 Comunque Tra un po' Ci danno La skin Uno stile Di Jesse Gratis Per Brawl Tricolore Che sarebbe Tricolore Vabbè Sappiamo tutti No Italia E queste cose qua E quindi Rega Andiamo a farci Altre Andiamo a farci Altre Partite Niente Se sentite Un rumorino Il telefono Di mia mamma Che squilla Quanto è forte Pam Rega My god Comunque Ditemi Se Nei commenti Qui sotto Se volete Dei Se volete Dei video Tipo Provano a ridere Questo qua Questo mi ha provocato Leggermente Mi sta uccidendo No 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 Pam Sono anche io Pam Quindi No Ok È pericolosa Questa Sta pam È pericolosa Sta pam È pericolosa Non più Adesso Ah ok Vuoi giocartela Vuoi giocartela Così Da campioncino Guardatela Guardate Quanta poca vita E vabbè Aveva più power up È vero Però L'avevo praticamente ucciso Allora Completiamo sta missione Facciamoci altre due partite Così E Va bene Intanto guardate A livello estetico È bellissimo Guardate Se io sparo il colpo Dietro Esce il fumo Guardate dietro Guardate dietro È troppo bello È troppo Bella Un mio amico Ci ha passato Un mio amico Ci ha passato Una vita A cercare Piper Perché è il suo Brawler preferito Adesso che Da poco L'ha trovato Oh mio Dio Non ci posso Credere Che si vede Il coso del telefono Ecco perché È meglio IOS Iphone Perché Non Esce Oh Regà Regà Ma che cavolo è Sì Fuori safe Ok E vabbè Da tutti i lati Riproviamoci La missione Qui Non so che dirti Non so che dirvi Comunque Non va bene Molto la rete In questi giorni Perché Già avevano detto Che la rete Non va molto bene Perché Perché stanno usando tutti Perché le lezioni E se no ci annoiamo E tutto E allora E mo sta anche Peggiorando E allora Eccoci qua Che stiamo Messi male No 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 Orsettino Orsettino Tranquillo Tu non puoi Fare nulla Infatti Ok Muori Tu Muori Aia Ma hai fatto Malle No 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 Signore Vabbè Altri Oh Come è possibile Che Ok Ehi Dove sei Ah Eccoti Eccoti Dammi Power up Eccoci qua Con i power up I power up La cosa migliore Piacciamo anche questo Ok Perfetto Raga Completata la missione Chiudo il video Raga Che vi devo dire Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto Non dimenticate di Iscrivervi E di mettere like E intanto Guardate Qui Mi mancano pochissimi Brawler Che mi entrano in una schermata E appena esce questo Mannaggia Raga Ok Allora Facciamolo di nuovo L'outro Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto Cosa molto importante Iscrivetevi E poi lasciate like Un salutone Grazie a tutti